Quindi volevo esprimere anch'io la nostra posizione da sindaci rispetto a quello che è un'organizzazione di emergenza che è sempre più complessa in questi giorni dove siamo nelle fasi un po' più di picco e di conseguenza dobbiamo tutti porre una maggiore attenzione. Una situazione complessa per i sindaci perché ci troviamo quasi quotidianamente a dover interpretare quelle che sono delle norme che cambiano in maniera molto rapida dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dello stesso Presidente della Regione piuttosto che diversi ministeri che con ordinanze vanno anche ad interpretare quelle che sono delle disposizioni che di giorno in giorno cambiano. E diventa difficile per noi sindaci riuscire a mantenere quel giusto anello di congiunzione con i cittadini nel riuscire a trasferire e anche un po' a semplificare il linguaggio di comunicazione che è rivolto ai cittadini in questo frangente. Quindi è un ruolo che è in prima linea nonostante i sindaci non abbiano il potere di poter emettere ordinanze specifiche in questo momento per il discorso sanitario ma possono regolamentare come stiamo facendo un po' tutti i comuni dell'area omogenea che rappresento il contenimento di quelle che sono gli spostamenti dei cittadini, quelle che sono il fatto di favorire quelle che sono delle necessità di raggiungibilità delle persone più in difficoltà, quelle più isolate, quelle in quarantena o quelle positive, quindi offrendo dei servizi vari dalla spesa a domicilio, da una presenza della protezione civile e quindi mettendo in campo tutte quelle che sono delle risorse che i comuni hanno e che possono in qualche modo agevolare e superare più facilmente questo momento di difficoltà. È chiaro che è un impegno costante, H24 per tutti, è uno sforzo importante per i medici sicuramente che sono in prima linea ma anche per le polizie locali, per le protezioni civili locali e le associazioni del territorio che sono impegnate su questo fronte come quelle sanitarie però è importante che tutti quanti continuiamo in questa direzione e che i cittadini ci ascoltino perché in questo modo riusciamo a lavorare tutti in una maniera più coordinata.